Una sala della memoria in un museo, il PAN di Napoli, per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata e una fondazione dedicata a chi come Giancarlo Siani dalla Camorra è stato ammazzato. È così che a 34 anni dalla sua morte è stato ricordato questa mattina il giornalista del mattino, Giancarlo Siani, ucciso il 23 settembre del 1985 da un commando della Camorra. Questa mattina all'inaugurazione con il fratello Paolo Siani, i vertici delle forze dell'ordine, della magistratura e delle istituzioni cittadine. A margine della cerimonia la premiazione delle lettere per Giancarlo scritte dagli studenti di 18 scuole napoletane. Penso su 34 anni, questo fatto mi inorgoglisce e mi fa anche commuovere. Pensate che tanti bambini piccoli, vedete questa sala, non hanno mai conosciuto Giancarlo ma hanno sentito sua storia attraverso il racconto dei genitori ma anche degli insegnanti, continuano a ricordarlo e gli parlano se fosse uno di loro, un loro coetaneo, contemporaneo. Questa credo che sia la vera vittoria di Giancarlo. Nella sala Siani mostra la storica Meiari, le foto di Giancarlo al lavoro e con gli amici, le immagini di tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata e dei giornalisti morti mentre facevano il loro lavoro. Claudio Silvestri, segretario del sindacato unitario giornalisti della Campania. Questa sala della memoria che si inaugura oggi è un momento molto importante per la città. Come dice la senatrice Segre, la memoria è l'unico vaccino che abbiamo per il nostro futuro e per il nostro presente. Ricordare quello che è stato Giancarlo Siani e come è morto Giancarlo Siani è l'unica cosa che abbiamo perché questo non si ripeta più.